Noi abbiamo cercato in qualche modo di dare un'identità alla città e in questo caso abbiamo individuato una piazza che era già Piazza Europa a Morciola di Vallefoglia indicando come naturalmente previo accordo della famiglia e della procedura che va sul parere della prefettura a David Sassoli. David Sassoli un europeista convinto anche in questi momenti drammatici dell'Ucraina probabilmente avrebbe avuto un peso importante nelle relazioni internazionali e poi un amico devo dire un diciamo conoscente illustre che mi sembrava giusto opportuno dedicargli questo luogo. Sarà un luogo anche di iniziative sull'Europa, sul futuro dell'Europa, sul ruolo dell'Europa, delle città, dei territori, dei comuni. Ferro, il professor Ferro è un uomo che ha creato strutture per la coesione sociale, quello che su Vallefoglia va sotto il nome di Civitas Marche, importante verso le persone più anziane, più grandi, oltre 200 alloggi per persone non autosufficienti, per malati d'Alzheimer. Quindi ricordare personalità importanti e poi personalità locali diciamo che hanno comunque fatto una storia. Abbiamo intitolato diciamo al povero Don Mario un parroco di Morciola che ha costruito la chiesa, ha costruito l'asilo, nido, oppure al geometra Mulasani che ha costruito un pezzo del comune di Colbordolo che ha fatto delle cose importanti. Quindi dei momenti di riflessione, di costruzione e di identità di una nuova città come Vallefoglia. David Maria Sassoli ha avuto anche l'occasione di poter venire qui a Morciola, quali sono stati gli incontri che avete avuto? Ma gli incontri sono stati tanti direi, è venuto nel monte di Colbordolo per una manifestazione politica, è venuto durante la campagna elettorale per le amministrative perché diceva lui Palmiro porta fortuna, ma in verità era un compagnone, uno che stava bene in compagnia, un tipo simpatico, brillante, e poi è venuto durante un altro periodo in cui fummo insieme candidati al Parlamento europeo. Poi è venuto a Pesero, insomma aveva un legame, ogni tanto ci sentivamo, anzi ma ha promesso sarebbe ritornato a far visitare Vallefoglia. Ahimè purtroppo c'è stata questa perdita che è stata per noi doppiamente dolorosa, dolorosa dal punto di vista delle relazioni umane, personali e dolorosa sul piano politico. Pesero, insomma è venuto a Pesero, insomma è venuto a Pesero, insomma è venuto a Pesero. Pesero, insomma è venuto a Pesero.